Ecco che parliamo, questa diciamo è la prima di una serie di lezioni su questo argomento, quindi serve un po' da introduzione. Ecco che parliamo quindi di che cosa cambia nel panorama letterario dopo che il romanticismo, vi ricordate Leopardi, dopo che il romanticismo si era affermato? Beh intanto cambia il fatto che il mondo è andato avanti, la scienza è progredita, la seconda rivoluzione industriale si è fatta strada e quindi entriamo anche nel periodo della belle époque. Sono gli anni tra il 1870 e il 1914. In questi anni, come c'è scritto qua, si genere in Europa l'illusione di uno sviluppo senza limiti, come se fosse quasi l'inizio di un'età felice. Ecco perché? Perché effettivamente il progresso scientifico e tecnologico, come dire, dà fiducia alle persone. La gente si sente rassicurata, vede che la società sta cambiando moltissimo e quindi sembra che quasi, sembra che la società abbia risolto i suoi problemi e tra parentesi vedete che le cose non stanno così perché nonostante tutta la nostra tecnologia oggi siamo qui chiusi in casa perché non riusciamo a sconfiggere un virus e preparare il vaccino ci vanno parecchi mesi. Quindi grandi progressi di sicuro, però la natura, come dire, è sempre in agguato e il dominio dell'uomo sulla natura non è così evidente come appareva invece all'epoca, perché all'epoca si pensava che l'uomo avesse addirittura dominato la natura. Allora chi pensa queste cose? Queste cose non le pensano i letterati, i poeti che si ispirano al romanticismo per i quali conta molto il mondo interiore, i sentimenti di una persona, l'individuo, il suo legame con la nazione, la tradizione culturale e quindi non guardano molto alla scienza e al progresso, seppur diciamo non è che ne fossero contrari chiaramente, però guardano ad altri aspetti dell'uomo. Ecco invece nasce una corrente filosofica, sociale, di pensiero, di autori che si chiama positivismo. Quindi già la parola vi dà un po' il senso di quello che queste persone prospettavano, quindi una visione certamente positiva. Siamo in un'epoca positiva. Ripeto, l'epoca positiva è quella tra il 1870 e il 1914, non dimentichiamolo, è quella che si chiama Bella Epoca. Io penso che qualcuno di voi che ama il cinema e magari qualche ragazza che ama in particolare DiCaprio, possa aver visto il famoso film su quella nave che poi è affondata, vi ricordate il Titanic? E quello era proprio, ecco il Titanic era proprio l'esempio di che cosa significava la Bella Epoca. Perché? Perché questo Titanic era la nave, il transatlantico più grande che fosse mai stato costruito, che presentava dei servizi a bordo, un'innovazione tecnologica per i tempi straordinaria. Beh, vedete come vanno le cose. Questo transatlantico è affondato alla sua prima uscita, alla sua primissima uscita. Si è affondato per colpa di un iceberg che affiorava e che l'ha colpito. Quindi è come dire, proprio il Titanic è l'emblema della grande illusione che si genera intorno alla Bella Epoca in questi anni. Questa illusione appunto positivista, cioè che tutte le cose andassero bene e che la scienza avesse risolto un sacco di problemi. Dunque abbiamo due caratteristiche che vanno tenute in considerazione del positivismo. L'una parte da Auguste Comte che era un filosofo e l'altra invece di Charles Darwin che era un naturalista. Auguste Comte che cosa dice? Dice qualche cosa che sostiene il positivismo e anche Darwin è preso come esempio di un buon pensiero positivista. Cominciamo da Comte. Comte che cosa diceva? Egli pensava appunto a una evoluzione umana destinata a culminare nello stato scientifico positivo in cui fantasia e ragionamento astratto vengono sostituiti dall'osservazione di dati empirici e dal razionale metodo scientifico. Ecco, vedete, questo è una cosa curiosa, interessante, perché come mai questo Comte contrapponeva la fantasia e il ragionamento astratto ai dati empirici? Allora intanto bisogna capire che cos'è un dato empirico. Un dato empirico è una osservazione che viene svolta nel mondo reale, in real world, dicono gli americani, in un contesto vero. Questo contesto vero si presta all'osservazione e durante questa osservazione vengono raccolti dei dati. Ecco, per esempio, l'osservazione empirica è molto importante oggi perché noi non sappiamo niente su questo nuovo virus e quindi medici e scienziati di tutto il mondo, i primi fra tutti i cinesi, hanno cominciato ad analizzare la struttura di questo virus. Voi vedete che i primi a scoprire la struttura del DNA sono stati proprio degli italiani. Aperta parentesi, forse proprio per questo poi il virus li ha colpiti, è la famosa vendetta del virus contro gli italiani. Chiusa parentesi. Però comunque sono stati proprio dei medici italiani, dello Spallanzani di Roma, con le loro indagini, col microscopio, con i loro strumenti, a capire quale fosse la struttura del DNA di questo virus. Però sono i medici cinesi quelli che hanno una grande esperienza nel capire come si cura e come si combatte questo virus. E infatti questi cinesi, molto gentilmente, oggi o ieri, mi sembra, forse ieri pomeriggio, sono arrivati nove medici esperti, scienziati cinesi, con un bagaglio di materiale e attrezzature per aiutare i medici e gli scienziati italiani a combattere questo virus. E lo combattono proprio perché loro hanno ricavato dei dati empirici, cioè loro hanno avuto purtroppo migliaia di morti, hanno avuto decine di migliaia di contagiati e quindi dalle osservazioni che hanno ricavato prima di noi ci possono passare e trasmettere queste osservazioni in modo tale che anche noi ci possiamo agevolare nella cura. Quindi, come dire, i positivisti non dicevano mica delle scemenze quando parlavano del fatto che bisogna indagare, osservare, parlare dai dati, partire dai dati empirici e quindi applicare il razionale metodo scientifico. Che cos'è il metodo scientifico? Beh, il metodo scientifico è quello che formula delle ipotesi e queste ipotesi devono essere suffragate dai dati. Io non posso dire questo virus, secondo me, dato il colore che ha così, è venuto fuori dagli spinaci. Cioè, non c'è nessuna base per dire una cosa del genere. Lo dovrei dimostrare. Allora cosa faccio? Trovo il virus all'interno degli spinaci e quindi dico, vedi che il virus si trova dentro gli spinaci, quindi questo virus è portato dagli spinaci. Ma no, non basta, perché io allora devo analizzare tutte le verdure e devo capire se è un problema di spinaci, un problema di insalata, finocchio, che cosa, fino ad arrivare facendo una serie di osservazioni, mettendole a confronto, studiando l'evoluzione del virus stesso, devo arrivare a capire quali sono le sue caratteristiche. Questo è il metodo razionale scientifico. Il metodo razionale scientifico è un metodo che incrocia i dati. Ora però, adesso vi dico quello che penso io, poi naturalmente ognuno è libero di pensare quello che vuole. Ora però, secondo me, il positivismo sbagliava a dire che la fantasia e il ragionamento astratto non avevano più ragione di esistere o perlomeno dovevano essere messi un po' in disparte. Ecco, perché? Perché, vedete, anche quando noi cerchiamo dei dati empirici, quando ci occupiamo di osservazioni, c'è sempre l'intuito, la capacità, la creatività, la capacità di ragionare anche in modo astratto, fa sì che le nostre capacità intellettive vengano spinte avanti. Se noi siamo troppo legati alla realtà, siamo troppo legati ai dati empirici, non riusciamo a vedere la realtà con questo distacco, cioè col distacco con cui sarebbe necessario vederla. Però, insomma, i positivisti, spero che abbiate capito, pensavano questo, c'erano molto legati alla scienza. Naturalmente loro dicevano che la scienza è una forma di conoscenza che però è l'unica, eccola qua, l'unica a essere di tipo scientifico, oggettiva, verificabile. Vanno escluse pertanto forme di conoscenza di carattere spirituale, metafisico, idealistico e anche religioso. Questa affermazione è interessante perché, certo, noi non possiamo indagare la realtà utilizzando i canoni di principi, per esempio, religiosi o metafisici. Questo è evidente, perché se dicessimo che il virus è una maledizione mandata da Dio e la dobbiamo accettare, beh, lasceremmo ovviamente morire milioni di persone, quindi non possiamo ragionare in questo modo. Sì, dimmi. C'è anche chi dice, cioè il contrario, se il virus sarebbe una punizione divina, un castigo divino, dobbiamo lo stesso accettarlo, cioè cambia gli addendi ma il risultato no. Eh, certo, esatto. Ora, la scienza non accetta questi tipi di ragionamento e questo è un bene per il positivismo, perché pensate anche a tutta la questione delle vaccinazioni, eccetera, no? Grazie a questo noi oggi abbiamo debellato intere malattie. Ve ne avevo parlato, io mi ricordo che quando ero bambino, per esempio a scuola c'erano molti bambini poliomilitici che avevano le braccia rachitiche, molti mendicanti anche per strada, che avevano le gambette corte, perché era la poliomilite che gli aveva colpiti. Poi il vaccino poliomilitico, l'antipoglio, poi ha debellato, perlomeno nella nostra società, questo tipo di malattia. Quindi la scienza non può accettare delle spiegazioni di tipo, o comportamenti di tipo religioso o spirituale. Questo è vero. Però non è vero che l'unica conoscenza valida è quella scientifica, oggettiva e verificabile, perché per esempio c'è anche una conoscenza poetica, una conoscenza letteraria. Voi pensate che per conoscere e avere idea del comportamento di altri popoli, altre culture, così noi non è che possiamo prendere l'aeroplano e andare a studiare tutti i paesi del mondo per cercare di capire qual è la loro cultura. Normalmente leggiamo, leggiamo di romanzi, leggiamo di racconti. Ecco, poi da questi romanzi, da questi racconti ci vengono anche delle intuizioni. Queste intuizioni ci fanno capire le persone come vivono, quali sono le differenze, i loro sentimenti. E poi proprio i sentimenti giocano un grosso ruolo nella vita di tutti i giorni. Quindi, come dire, a mio parere i positivisti erano un po' troppo trancianti, diciamo. Però avevano ragione nel dire che il mondo reale deve essere indagato e deve essere, loro dicono, scientificamente conoscibile. Perfetto. Però voi dovete tenere conto che la conoscenza del mondo è discussa. Non trova d'accordo spesso due scienziati diversi. Per esempio, c'è stata una grande polemica proprio in quegli anni, all'inizio del Novecentro, tra due grandi teorie scientifiche. La teoria relativistica, anzi direi tre grandi teorie scientifiche. La teoria fisica newtoniana, quindi della fisica classica, la teoria della relatività ristretta e poi generale di Einstein e poi la fisica quantistica. Ora pensate che queste tre teorie erano in contraddizione. Poi oggi si sono superati molti disaccordi, ci sono tante cose che sono state esaminate e discusse e quindi c'è un sostanziale accordo tra i fisici sulla valutazione e il posto che occupano queste teorie. Però, per esempio, all'epoca ci sono state discussioni veramente importanti. Einstein ha discusso con Planck, si sono scambiati delle lettere persone. Insomma, voglio dire, questo mondo reale è sicuramente conoscibile da un punto di vista scientifico, ma non è che la teoria scientifica possa essere così adottata su due piedi e trovare d'accordo tutto il mondo scientifico. E questo, diciamo, Auguste Compte, ecco, questo per dirvi l'importanza del positivismo. Poi c'è invece un po' più difficile da capire, almeno lo vedo io che gli studenti hanno più difficoltà a capire invece la posizione di Darwin e quindi cercherò di spiegarvela con parole semplici e in modo chiaro. Se non capite, mi interrompete e mi ponete delle domande. Allora, l'evoluzionismo di Darwin. Allora, intanto questo titolo è sbagliato perché la dottrina di Darwin non è una dottrina evoluzionista, perché la teoria evoluzionista sembra che dà l'idea che nel mondo ci sia una evoluzione positiva, appunto, cioè un passaggio da una specie all'altra, una sorta di miglioramento. È vero che ci sono dei miglioramenti, ma questi miglioramenti derivano dall'adattamento della specie all'ambiente. Anche il termine... Una selezione naturale, quindi. Esatto, perché anche il termine adattamento è un po'... non è del tutto corretto, perché come scriveva Engels, Friedrich Engels, che era un uomo molto attento allo sviluppo scientifico dell'epoca, scriveva questo, diceva voi potete vivere mille anni in una foresta, ma non vi spunterà mai la coda per aggrapparvi a un ramo. Cioè l'evoluzione della specie non consiste nel fatto che per stare meglio in un ambiente io sviluppo delle caratteristiche che mi fanno stare bene. Allora, adesso vi spiego. Abbiamo detto che l'evoluzionismo non è un termine proprio preciso perché sembra che indichi un costante miglioramento della specie, così come un meccanismo automatico. E neanche il termine adattamento della specie va molto bene, ecco. Allora, diciamo, ma che cosa ha scoperto Darwin, Charles Darwin? Charles Darwin ha scoperto un'altra cosa, ha scoperto la selezione naturale. Ricordatevi questo, la selezione naturale. E la selezione naturale, che qui non so perché non viene neanche menzionata, è veramente incredibile questa cosa, perché è proprio sbagliata questa dispensa, non viene neanche menzionato il termine selezione naturale, però la selezione naturale che cos'è? Allora, partiamo dall'inizio. Esistevano, esistono due teorie. Una teoria è quella appunto evoluzionista, che proponeva un grande studioso che si chiamava Lamarck. Lamarck che cosa diceva? Lamarck diceva che alle giraffe sono, le giraffe hanno assunto questo collo lungo per potersi cibare delle foglie, delle piante che in Africa hanno un fusto molto alto e quindi questo nutrimento, le foglie, si trovano a una certa altezza. Darwin invece, secondo la teoria della selezione naturale, che cosa diciamo noi? Diciamo che in Africa le giraffe avevano un collo di un certo tipo, ma sono nate delle forme, diciamo così, tra virgolette handicappate, un handicap, delle mutazioni, delle giraffe che avevano un collo più lungo. Ora, queste giraffe che avevano un collo più lungo si nutrivano meglio delle altre, perché le foglie erano più alla loro portata. E quindi che cosa è successo? Con l'andare del tempo, del tempo, non dei giorni, non degli anni, non dei decenni, ma dei secoli, dei millenni, con l'andare del tempo, poco per volta si sono procreate di più le giraffe col collo lungo. Perché? Perché le giraffe col collo lungo erano meglio nutrite, erano più in salute, vivevano più lungo perché riuscivano a mangiare di più e meglio e quindi facevano più figli, mentre poco per volta le giraffe con il collo corto tendevano a sparire. Perché mangiavano, certo, riuscivano a procurarsi cibo, però non era magari di così grande qualità, non era magari di così grande quantità, quindi il loro sviluppo alla fine non era così sano, non riuscivano magari mettere al mondo tanti figli, fino a che poco per volta le giraffe con il collo lungo hanno preso il sopravvento. Quindi vedete che, se avete capito questa spiegazione, questa cosiddetta evoluzione è il frutto di cambiamenti casuali, cioè casualmente nasce un individuo che per alcune caratteristiche si trova meglio di altri. Per esempio è stata osservata una cosa molto curiosa a Londra. Londra in quegli anni era una città, no aspettate, forse mi sembra Manchester, più Manchester, se dovrei verificare, ma mi sembra più Manchester, cioè più industriale ancora. Comunque in una di queste due città si è verificato che lo sviluppo industriale, con questo carbone, questa produzione di fumo, di inquinamento, aveva annerito gli alberi. Ora, sapete, le betulle hanno la corteccia chiara e quindi su questa corteccia chiara si posavano delle farfalle bianche. Queste farfalle bianche però, nei momenti in cui la corteccia della betulla cominciava a scurirsi, queste farfalle poverine erano in grossa difficoltà perché gli uccelli le acchiappavano subito. Voi vi immaginate una farfalla bianca su una corteccia scura? Si vede parecchio. Prima no, prima erano più protette, quindi c'erano tante farfalle. Allora che cos'è successo? È successo ovviamente che queste farfalle hanno cominciato a diminuire. Le farfalle bianche tendevano a scomparire. Siccome però tra questa popolazione di farfalle ogni tanto nasceva qualche farfalla nera, ecco che questa aveva più possibilità di sopravvivere, cioè gli uccelli la vedevano meno. Farfalla scura, su tronco scuro era più difficile catturarla. Quindi che cos'è successo? Beh, è successo che nel giro di un po' di tempo le farfalle bianche sono sparite e al loro posto le farfalle nere invece sono aumentate. Ecco quello che Darwin chiama la selezione naturale, cioè non c'è una volontà attraverso la quale la giraffa si allunga da sé il collo o diciamo la natura allunga il collo della giraffa oppure le farfalle da bianche diventano scure o da se stessa la farfalla decide di diventare scura. È un caso. Sopravvive una parte della specie. Sopravvive una parte della specie, quella che è più adatta a sopravvivere in circostanze che cambiano e se non si verificano dei mutamenti le farfalle muoiono. Basta, la specie si estingue. Se non ci sono mutamenti e del resto ci sono delle specie che si sono estinte. Voi se avete letto, visto, sfogliate, illustrazioni, anche quando eravate elementari alle medie, no? Di libri e così avete visto quanti specie. Il dodo, queste cose qui. È certo. Adesso il koala. Il koala. È certo. Alcune per colpa nostra, alcune naturalmente perché poi l'intervento dell'uomo è pesante. Perché è pesante l'intervento dell'uomo? Perché l'intervento dell'uomo è rapido, è molto rapido e quindi la natura non fa in tempo ad assorbire quello che noi combiniamo. Chi lo sa, magari se noi avessimo prodotto questo inquinamento non in cento anni, ma in duemila anni, magari la natura avrebbe avuto il tempo, attraverso la selezione naturale, di cambiare, di modificarsi. Ma noi stiamo distruggendo la natura a una velocità incredibile, perché la rivoluzione industriale è della metà dei Settecento, quindi mettiamo anche tre secoli, tre secoli sono stati sufficienti per modificare proprio l'equilibrio biologico e l'ecosistema terrestre. E quindi la natura ha difficoltà, ecco perché l'uomo deve intervenire coscientemente su un piano politico, su un piano scientifico per fermare questa distruzione della natura. Quindi di cosa abbiamo parlato adesso? Abbiamo parlato del positivismo e della selezione naturale e abbiamo parlato del fatto che il positivismo si contrapponeva al romanticismo fondato sul sentimento, sul valore della persona, sul pensiero astratto, sulla creatività, eccetera, che invece i positivisti non apprezzavano tanto. Vi devo dire ancora una cosa, che è l'ultima, vediamo qua se ne parla, eccolo qua, ne parla, eccolo qua. Fotografia cinema, parliamo di questo, perché l'800 è anche il secolo dell'invenzione della fotografia. Lui, Daguerre, nel 1837 realizza un'immagine fotografica stabile, in un'unica copia positiva non riproducibile. Eccolo qua, vedete, le prime fotografie. Questa del 1892, guardate, interessante. Questi sono dei minatori di fine 800. Allora, la fotografia è pazzesco perché la fotografia si dice subito che è il modo di scrivere con la luce, perché è la luce che viene usata per creare le fotografie. La fotografia produce una rivoluzione, non so se lo sapete, ma per esempio prima di tutto la fotografia rimette in causa completamente la pittura. Rendetevi conto, per fare il ritratto di una persona, un pittore ci metteva almeno una giornata, poi doveva spendere soldi per i suoi colori, dovevano essere dei colori a olio, a olio di lino. Questi colori costano, costano parecchio. Informatevi da un colorificio una volta che ci passate e vedrete le tele, le tele costano. I pennelli, i pennelli che sono fatti di setole particolari, naturalmente sono cari questi pennelli di qualità. Più c'è il lavoro dell'artista, più la sua bottega, il garzone, l'assistente. Insomma, questi ritratti certo erano molto belli, erano il frutto della creatività umana, della capacità artistica dell'uomo, però erano anche costosi. La fotografia, tu arrivi, inquadri, zac, scatti, ne scatti un'altra, cambi la posizione. Cioè tu nel giro di poco tempo puoi avere l'equivalente di 4 o 5 di quei quadri all'epoca. Certo, le fotocamere all'inizio costavano, costava anche il sistema di sviluppo, erano pochi a farlo, però la fotografia, pensate come si è evoluta, anche rapidamente. Sono state inventate delle fotocamere, poi è stata inventata la Polaroid, arrivi, schiacci, tac, e hai subito la fotografia. Fino ad arrivare oggi, dove i nostri smartphone hanno delle possibilità pazzesche, hanno tre fotocamere integrate, quattro fotocamere integrate, possono creare delle fotografie incredibili. Quindi che cos'è successo? È successo che tutto questo ha messo in crisi la pittura e quindi la pittura ha dovuto prendere altre strade ed è così che la pittura è diventata più astratta. Sapete, poi è nato il cubismo, prima l'impressionismo, penso che conosciate queste cose, il cubismo, il surrealismo, ha trovato altre forme per esprimersi, perché non poteva più competere con la fotografia, la pittura. E quindi che cos'è successo? Che gli intellettuali, i scrittori dell'epoca, sono rimasti affascinati dalla macchina fotografica e fino al punto che un tizio, grande scrittore francese che si chiamava Emile Zola, ha dichiarato che lui voleva scrivere dei romanzi e dei racconti come se questi romanzi e questi racconti fossero delle fotografie. Questo ha detto Emile Zola. Emile Zola poi ha scritto anche la prefazione di un libro nel quale spiegava proprio questo, cioè spiegava che il suo intento era quello di raccontare in modo oggettivo esattamente come una fotografia oppure come una ripresa cinematografica, raccontare quello che succedeva nella società, non facendo un saggio ma scrivendo un romanzo. Ecco però di Emile Zola noi parleremo alla prossima lezione. Per questo momento è tutto, abbiamo parlato del positivismo, abbiamo parlato di Darwin, abbiamo parlato di come è nata la filosofia positivista della Belle Epoque e abbiamo concluso accennando alla fotografia e a come Zola in Francia inventerà un nuovo genere letterario che si chiamerà naturalismo e in Italia invece prenderà il nome di verismo. E questo è tutto per la lezione di oggi.